Se l'è cavata con un trauma cranico non commotivo e sette giorni di prognosi, Francesca Carabba, titolare della gioielleria omonima in piazza Plebiscito a Lanciano, rapinata poco prima dell'orario di chiusura da due uomini e una complice. E' accaduto tutto in pochi minuti, racconta la donna, discendente di una storica famiglia di gioiellieri in città. Erano quasi le 19 di mercoledì, quando è entrata una 45enne in negozio per un acquisto importante. Quasi subito dopo sono entrati due uomini, velocissimi, mentre la complice si dava alla fuga. Un pugno in pieno volto fa barcollare la titolare che cade dentro la cassaforte aperta. Stia zitta e non le succederà niente, le hanno ripetuto i due malviventi in italiano corretto e senza inflessioni dialettali, mentre si intrufolavano dietro il bancone per arraffare e mettere in una busta di plastica della spesa una quindicina di rotoli con bracciali e collane in oro, orologi e monili con pietre preziose. Quindi la fuga a piedi nei vicoli, verosimilmente l'accomplice li attendeva in auto. Nessuno li ha visti. Un'azione fulminea su cui indagano i carabinieri di Lanciano, sul posto per i rilievi è intervenuta anche la scientifica della polizia. In tanti, tra amici, clienti e passanti, si sono fermati per una parola di conforto e di solidarietà. Delinquenti è il commento unanime che bisogno c'era di aggredire una donna e ancora, purtroppo, non si sta più tranquilli nemmeno in centro. In gente il bottino, la cassaforte è stata praticamente svuotata di oltre 100.000 euro di preziosi, al vaglio degli inquirenti, le immagini filmate dal sistema di videosorveglianza interno e altre telecamere presenti in zona. I malviventi avevano i volti celati da cappelli con falde e scaldacollo. Anche la donna indossava un berretto. Si cercano due uomini di età compresa tra i 40 e i 55 anni.